Ciao Rotolini e benvenuti in questo nuovo fantastico video, oggi sbusteremo la collezione con le spille di futuri campioni. Bene, andiamo subito ad aprire il primo copanetto e vediamo all'interno cosa sbusteremo. Cosa troviamo all'interno di queste confezioni? Vi lascio vedere subito, all'interno il promo, eccola qui, tre pacchetti dell'espansione e una spilla del capopalestra che andremo poi a piazzare sul mio tappetino. Apriamo subito il primo pacchetto, apriremo tutte e tre le confezioni, codici nel regalo per voi, vediamo se saremo fortunati. Si parte, Nerja Psico, Ginepro, Malamar, Sharpido, Pokeball, Weedle, Kakuna, Carvagna, Pozione, Arbok Reverse e Ricerca Accademica. Quindi prima ho l'ho trovata, Ricerca Accademica. Andiamo col secondo pacchetto. Ricordo come sempre che se volete seguirmi in live mi trovate quasi tutte le sere, per sapere quando seguite i miei social con la mia pagina Rotolaus su Facebook oppure su Instagram per scoprire gli orari esatti delle mie live, ma meno male tutti i giorni in live sul canale di Oro. Codicino in regalo per voi. 2, 2, 3, 4, vediamo, vediamo cosa esce. Megaball, Sonia, Bicirothon, Weedle, Linundigal, Carvagna, Swablu, Seaslipid, Reverse Altaria e Centiscorce. Iniziano ad arrivare le prime doppie. Altaria Reverse è già doppio. Arbok invece mancava. Ultimo pacchetto di questa collezione. Per ora abbiamo un pool tristissimo. L'ho fatto toc toc, chi è? Che brutta colla su questo pacchetto. Io qua mi sento che mi esce Gardevoir Vemax. 12 nel regalo. Stadio di Tartfield. Hop, che bella questa carta. Bidrill, cura totale. Scraggy. Ekans. Kakuna. Nikit. Bidrill, Reverse. E Scraftiolo, doppia. Quindi se volete le mie doppie, chiedetemi informazioni e io ve le vendo volentieri o scambio. Scrivetemi qui oppure su Facebook. Andiamo ad aprire il secondo pacchetto. Questo pool non è andato bene purtroppo. Adesso vi faccio vedere la carta a provo. E la spilletta. Guardate che bella. Bellissimo. Bene. Mettiamo da parte. E iniziamo lo spacchettamento. Anche di questi futuri campioni. Lo sento bello pesante. Io lo lascerei per ultimo. Questo pacchetto. Pronto. Via. Dai, dai. C'è la ricerca dei due Charizard. Mamma mia. Mamma mia. Ovviamente se proviamo qua. Charizard in live. Lo dice per voi. Faccio. Cioè. Mi metto in mutande davanti alla webcam. No, non posso farlo perché probabilmente mi provano di... Ok. Energia buia. Shibo in scatola sospetto. Sonia. Lipard. Carvagna. Swablu. Vulpix. Trabbish. Rolly Colly. Carvagna. Reverse. Alcrimi V! Sì! Manca. Prima V. No, seconda V che ci esce in questi video. Bellissima. Bellissima. Stiamo avendo un pool migliore. Andiamo ad aprire il secondo pacchetto. Almeno una V l'abbiamo ancora. Ai rotolini. Forza. Mettetemi un bel mi piace per Alcrimi V. Codicino in regolo per voi. Ok. Speriamo in bene. Energia a fuoco. Kabu. Hippard. Ginepro. Vulpix. Inkay. Pokeball. Sislepid. Zizzagundi Galar. Beedrill. Reverse. E... Gardevoir V-Maxx. Bellissimo. Bellissimo. Davvero, davvero, davvero molto bello. Davvero molto bello. Andiamo subito a imbustarlo. Ottimo pool per questa confezione della palestra d'acqua. Guardate che bello. Mettiamolo vicino all'amichetto. Il creamy. E al charizardone. Perfetto. Voilà. E ora andiamo a aprire l'ultimo pacchetto di questa confezione. Speriamo in bene. Dai, il charizard vai. Se esce il charizard, urlo. Urlo. Urlo come una donniciola. Dai, dai, dai. Dai, dai. Carichi, carichi. Regalino per voi. Vale. Energia. Lipart. Cibo in scatola. Sospetto. Addetta al centro portano. Pozione. Rockraff. Weedle. Swablu. Kakuna. Ricerca accademica. E Machamp Reverse. Doppio. Quindi, è tutto vostro. Beh, che dire. Un bel pool di questa... Dell'acqua. Ora andiamo con quella a fuoco. Abbiamo la carta promozionale. Questo centiscorcio bellino. E la spilletta. Guardate che bella. Bellissima. La prendo così così si vede. Tadà. Ok. E siamo con la terza spilla. Eccola qui. Stai così. Stai giù. Ok. Perfetto. Apriamo con Dreadnow e vediamo cosa ci combina. Via. Si parte. Questa è per voi. Uno, due, tre, quattro. energia. Iperpozione. Iperpozione. Lippard. Cibra in scatola sospetto. Cura totale. Sislippid. Purloin. Eccans. Pozione. Reverse. Stadia di Tartfield. E Mary Olo. Mary Olo. Poche parole. Mario Olo. Mary Olo. Andiamo col secondo pacchetto. Poi rimane l'altro di Obstagon. Regalino per voi. Ok. Dai, 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 dai. Voglio chiudere in bellezza. Energia. Machok. Beedrill. Hardbok. Procraf. Purloin. Nikit. Sislippid. Latina. Reverse. Weedle. E Waylord V! Sì! Un'altra V che manca alla collezione. Ottimerrimo, ottimerrimo. Voilà. E si aggiunge alle amichette. benissimo apriamo l'ultimo pacchettino e speriamo in un Charizard ci farebbe andare oltre le stelle e nei confini più dell'universo, verso mondi che non conosco per scoprire il passato, quello che è stato tanto tempo fa 4 allora energia acqua, sciarpido ginepro Atrem, Rockraff Purloin Nikit, Sislipid Atin Reverse Hop, bellissima e ricerca accademica niente piccolo riassunto a parte le variolo abbiamo trovato Wailord V Gardewar Vimax e Elkrimi V direi che come pool non è andata benissimo ma neanche male e ce lo facciamo bastare noi ci vediamo al prossimo video e come sempre mi trovate in live quasi ogni sera alle 21 sul mio canale viola e anche per oggi è tutto se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel mi piace e un commento e non dimenticatevi di condividerlo vi ricordo inoltre di seguire tutti i miei social per rimanere aggiornati sulle nuove live e i nuovi video alla prossima grazie a tutti i miei sociali